Per la speciale classifica redatta ogni anno da Lega Ambiente per i comuni ricicloni c'è da registrare ancora l'affermazione di Salerno città e della sua provincia. La classifica di Lega Ambiente sui dati della raccolta differenziata dei rifiuti ha visto il capoluogo salernitano insieme alle cittadine della provincia conquistarsi le prime nove posizioni tra i primi dieci comuni ricicloni della regione Campania. La maglia nera va a Napoli con il 21% mentre Benevento 65% e la seconda città Capoluga seguita da Avellino con il 56% e Caserta con il 43%. Il premio comune riciclone 2013 va a Casalvelino che conquista l'84% di raccolta differenziata oltre a Roccadaspide con l'87% e Pertosa con il 92% che però è prima assoluta per quantità di differenziata per i comuni sotto i 1000 abitanti. Soddisfazione è stata espressa da parte dell'amministrazione comunale di Pertosa come dichiarato anche dall'assessore Giuseppe Lupo. Un plauso va sicuramente ai cittadini di Pertosa che anche quest'anno hanno dimostrato grande attenzione verso la raccolta differenziata. Un plauso va anche a tutta l'amministrazione perché comunque tanti anni di sacrificio e di sensibilizzazione hanno portato l'amministrazione e Pertosa a questo grande risultato. Inoltre Lega Ambiente ha dato il riconoscimento premio Buone Pratiche 2013 anche ai comuni di Sant'Agata dei Goti per la miglior GPP, Novi Velia per la miglior campagna di compostaggio domestico, Baronissi per i migliori incentivi raccolta differenziata, Mercato San Severino per la comunicazione 2.0 e Agerola per la miglior performance generale. Per la miglior performance generale